Chiarimenti su alcune problematiche contingenti e ipotesi sul futuro della società di raccolta dei rifiuti sono state avanzate nel corso dell'incontro convocato dal sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto con i rappresentanti sindacali della Teramo Ambiente S.P.A. nella sede municipale di Via Carducci. Al primo cittadino sono stati innanzitutto rappresentati i problemi che riguardano lo stato dei mezzi, la gestione complessiva del piano ferie ed altre problematiche oramai esistenti da anni. Ma il terreno sul quale i sindacati e il sindaco hanno trovato convergenza è stato l'atteggiamento che il comune andrà ad assumere sul futuro prossimo, soprattutto in considerazione degli ultimi eventi che hanno causato una situazione di spiegabile stallo. Un incontro con i sindacati utile ovviamente nel quale è venuta fuori tutta la preoccupazione da parte dei sindacati e quindi dei lavoratori sulla situazione di stallo che è stata determinata dal socio privato e dall'attuale CDA che proseguono in un'azione sostanzialmente di ostilità rispetto alla posizione del comune di Teramo che come abbiamo sempre detto è l'unico ente che tiene in vita la Teramo Ambiente nella sua parte pubblica e privata e può disegnare e scrivere il futuro e la continuità aziendale della società stessa. È chiaro che il 5 luglio sarà un'assemblea molto importante nella quale noi torniamo a chiedere il ritorno alla normalità con la ricomposizione dell'organo del CDA nella sua interezza, con la nomina del presidente già designato dal comune di Teramo e qualora dovesse ulteriormente protrarsi questa situazione di contrasto di ostilità nei confronti del comune di Teramo con gli stessi sindacati abbiamo iniziato a valutare anche scenari alternativi perché ovviamente dobbiamo uscire da questa situazione di stallo non voluto da noi è chiaro che è enorme alla mano e visto qual è il contesto sulla gestione dei rifiuti attualmente il comune di Teramo anche per l'entrata in funzione dell'Agir potrebbe affidare in via diretta al mote quindi togliere a Team il servizio ovviamente introducendo tutte le garanzie per i lavoratori oppure seguire anche altre strade ed altri percorsi che inevitabilmente porteranno a delle scelte di cui chi sta bloccando l'attività della Teramo Ambiente si assumerà le sue responsabilità.